Ripristino del viadotto Petrulla Ravanusa, il sindaco della città del Monte Saraceno ha incontrato i vertici dell'ANAS per fare il punto sulla progettazione e sulla realizzazione delle opere necessarie alla riapertura dell'importante infrastruttura chiusa dallo scorso 7 luglio. Alla riunione erano presenti tra gli altri, oltre al sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo, anche il direttore generale di ANAS Alfredo Baio e il direttore centrale della progettazione Ugo Di Bennardo. Secondo quanto appreso dall'amministratore comunale, ANAS avrebbe confermato il rispetto dei tempi sulla redazione dei progetti che interessano non solo il rifacimento della campata crollata del Ponte Petrulla, ma anche la manutenzione straordinaria e il ripristino della viabilità sul viadotto salso. Secondo quanto detto dal sindaco D'Angelo, la previsione di spesa dell'ANAS per i lavori da eseguire è di circa 15 milioni di euro, somma inferiore rispetto a quanto annunciato nelle settimane scorse. ANAS avrebbe anche confermato il periodo di pubblicazione dei bandi per gli appalti, che dovrebbero giungere entro la fine dell'anno. Dell'incontro tra il primo cittadino di Ravanusa e i vertici dell'ANAS in Sicilia sono stati informati sia il direttore nazionale Pietro Ciucci che il ministro dell'interno Angelino Alfano.